Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Oggi non è un... Dove siamo? Per la stanza di R Oggi registriamo un video su StumbleGuys Ma scusa, i dolci di Elisa e poi porti i gameplay Sì, è un video diverso dal solito Voglio provare a portare StumbleGuys in un video Mi raccomando lasciate un bel mi piace a questo video Perché se vedo tantissimi like ve ne porto altri video E anche live E iscrivetevi ovviamente al canale attivando la campanellina Vai Elisa, parti tu, fai la prima partita tu E poi faccio una partita io Wow Non va a aspettare niente Elisa, eh? Ve lo dico, vai, gioca, ma... Allora, se passi questo livello... Non dire niente Dico niente Però cerca di passarlo e questo è uno dei più... Oddio no, non è più semplice No, non dire così perché tu perdi sempre quando giochi Quindi non dire così Qua non devi buttarti a... A pesce Sì Ragazzi, lei è incapace a giocare, eh? Non so se seguire le live, ma non è per niente capace Te lo posso garantire Da quella parte Brava Oddio Ragazzi Ce la sta facendo Devi salire su queste pietre Lo so, ho già giocato a questo livello Oddio Veloce E un attimo A destra No, non è mani centrale Non è mani centrale Non è mani centrale Non è mani centrale Vai, veloce, veloce, veloce Puttati Corri 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 Madonna Se è qualificata Se è qualificata Ragazzi È un evento storico perché non è capace a giocare Sono più brava nei video che nelle live perché non sento proprio la pressione, capito? Vi posso garantire che non è capace Però se è qualificata Se vinci No Ti porto al ristorante di Carlo Cracco Non vincerà mai perché quando dice le cosu Le cosu Come si dice? Veloce, veloce, buttati Un attimo Salta Salta Brava Dio ragazzi Siamo calmi che potrebbe fare il gioco finale Impazzisco se fa il gioco finale Ok, queste cose Vai prima a sinistra Brava Poi a destra Bravissima Ok Uh, uh, stavo per cadere Forse non ce la fai a qualificarti Veloce, buttati là Vabbè Brava Vai, vai dritto Vai qui Ma puttati capovitto, cazzo Qua, qua a sinistra, a sinistra No, non ce l'ho fatto Troppo bello per essere bello ragazzi Troppo bello Sono arrivata quasi alla finale del secondo turno Sì Vado io ragazzi Giocata, tocca a me Sembra strano però sono arrivata quasi in finale del secondo Cambio skin Mi metto lo scheletrino Primo livello ma siccome L'abbiamo già fatto prima E sicuramente lo passerò Ci vediamo direttamente al secondo round Per farvi capire per quanto sono pro Sono addirittura primo Cioè È incredibile ragazzi Sono troppo troppo forte Guarda Cioè Perché questo gioco qua non lo fanno mai in finale? Perché? Vabbè Secondo livello ragazzi Sì Questo lo odio tipo tantissimo Questo è tosto quindi non lo supererà Perché vi volevi portare i jello? Non ho capito Allora con calma Facciamo così Facciamo così Si qualificano solamente i primi otto Corri, corri, corri Veloce, 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 veloce Sì? Ah porca trota Ho sbagliato Bellissimo Calma, calma ragazzi Calma che ce la faccio Bello, bello, bello Bello Non è una lobby fortissima questa qui eh Ce la potrei benissimo fare Calma Perché non è la finale però Cazzo Rola La palla Perché non è la finale? Cioè guarda Sono arrivato Nei primi due round primo Ma vedi che il gioco finale Non arriverò primo Mi incazzo eh Mi incazzo Se vinco Ti porta il sushi Basta con sto sushi Gioco finale Dammi laser I da Laser oppure dash qualcosa Prego non mi dare un gioco Oh porca vacca no Ogni volta sui quei palli laverdi mi mi ci incastro io La lobby non è fortissima Sì però non mi dovete bloccare Cristiano Ronaldo Non mi dovete bloccare Corri, 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 corri Corrier, corri Corrier Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sei fermo brutta latrina Fermo Dai che palle Si ma che palle però Cioè ho fatto tre round I primi due round primo posto terzo round Secondo posto Aspetta vediamo qua il pass battaglia abbiamo pure una skin Sblocchiamo la skin Se esce una skin epica mi faccio nudo Mi faccio nudo Leggendaria No Ma non ci credo Oh non becco una leggendaria da non so quanto tempo Grazie a tutti per aver visto questo video Ci vediamo alla prossima Ciao